Buon pomeriggio a tutti eh ben collegati a questo nuovo incontro webinar e organizzato in collaborazione con Societe Generale ehm tema di questo pomeriggio che trascorreremo assieme naturalmente sarà come sempre un'analisi dei prodotti in quotazione sul mercato secondario con qualche spunto eh sia di breve sia qualche spunto ovviamente un po' più di medio termine e poi in particolare un focus che dedicheremo ai certificati più adatti al trading eh ovvero i corridor e gli mh stay up stay down quindi certificati che comunque eh assimilano ai corridor il funzionamento con eh potenziali eh importanti rendimenti ma chiaramente anche con dei rischi altrettanto elevati al raggiungimento di una delle due barriere in particolare per i stay up stay down invece solo una barriera posizionata o al rialzo o al ribasso quindi cercheremo di fare una panoramica abbiamo individuato come ufficio studio del chat lab cinque idee di investimento quindi carattere di eh di certificato di investimento vero e proprio e poi come detto faremo invece un focus dedicato proprio ai prodotti prodotti da trading naturalmente eh ringraziandovi per la partecipazione io sono Pierpaolo Scandurra eh vi invito a partecipare appunto anche attivamente con il tool eh che è sulla vostra destra quindi sulla destra del monitor una chat per poter interagire ed eventualmente appunto confrontarci sul funzionamento dei prodotti o eventualmente anche eh andare ad analizzare qualche vostra ehm qualche vostra segnalazione su certificati chiaramente emessi da social del generale per quanto riguarda l'andamento di mercato attualmente abbiamo uno scenario totalmente positivo in Europa che va un po' a mh prolungare la fase di recupero avviata già il su fine della scorsa settimana in America anche qui dopo un minimo di giornata abbastanza profondo soprattutto sul future Nasdaq a sette mila seicento ottantadue punti un recupero attualmente di circa settanta punti quindi l'un per cento con un eh sette mila settecentocinquanta quattro e quindi siamo prossimità dei massimi di giornata mentre quanto riguarda il Futsi Mib siamo effettivamente sui massimi proprio in questo momento e altro tema riguardante invece le valute e c'è da dire che soprattutto per quanto riguarda i prodotti emessi da società generale e quello che riguarda i cash collect plus quindi sia nella vecchia versione sia in quella nuova le ultime quattro emissioni che eventualmente riusciremo a vedere nuovamente prima o oggi eh c'è la notizia appunto di la che riguarda ancora una volta la lida turca che dopo un periodo di sostanziale stabilità anche dopo l'uscita dei dati macroeconomici della giornata del eh del tre di ottobre eh oggi invece segna un eh depreciamento dell'ordine dell'uno e mezzo per cento circa dai minimi e un massimo di giornata sei e trentatré e diciotto contro l'euro quindi di insomma notizie non incoraggianti per l'area turca ma soprattutto insomma questo legato alle dichiarazioni di Erdogan che non riguardano per una volta gli aspetti macroeconomici ma insomma eh questioni più più politiche eh vedremo insomma cosa succederà al momento comunque reazione tutto sommato comunque sotto controllo insomma siamo a sei a trentadue e quarantasette si sostiene ancora anche riferimento alle ultime emissioni che hanno barriere ben più profonde allora eh come dicevo eh cominciamo subito con andare a vedere qualche idea di investimento e in particolare eh quindi ecco intanto Sergio che mi sognala un certificato quindi dopo lo andremo a vedere assieme Sergio così daremo un'occhiata anche a questa questa idea eh mentre dicevo andiamo a vedere un po' ecco partendo proprio qui dal anche dal dal sito dei sociali generali in particolare andiamo a vedere un codice Aisin che abbiamo selezionato che riguarda un certificato recovery bonus cap quindi un certificato della struttura eh dei bonus cap quindi una barriera in particolare in questo caso eh osservata mh o a scadenza o eh in intraday ma per quanto riguarda questa emissione un essendo un top bonus eh una barriera osservata solo a scadenza e il sottostante invece è il banco BPM quindi andiamo a vedere direttamente qui dalla mh pagina eh del sito prodotti punto sede general punto com di cosa si tratta allora stiamo parlando di certificato di investimento emesso nel mese di maggio ma durata mh prevista all'emissione di circa diciotto mesi eh qualcosina in più eh in realtà perché scaderà il ventidue dicembre duemilaventi ed è un certificato che è stato emesso a un prezzo di ottantadue virgola sessantaquattro euro da qui il fatto che si tratti di recovery bonus cap o comunque recovery top bonus cioè certificato emesso sotto la pari che rimborserà un importo fisso di cento euro pari quindi ad un rendimento dall'emissione del ventuno per cento a condizione che alla scadenza quindi osservazione alla barriera europea quindi solo alla scadenza il titolo banco BPM si trovi almeno alla barriera dei uno ventotto e cinquanta e non al di sotto di questo livello andiamo a vedere qui assieme graficamente quindi eventualmente insomma qual è il lo scenario e soprattutto vediamo un po' graficamente dove si posiziona la barriera in relazione per al titolo banco BPM quindi andiamo a vedere più nel dettaglio il grafico sul banco BPM eccoci qui allora nell'ultimo anno il minimo è stato toccato a uno cinquantacinque e sei quindi dobbiamo andare un po' più indietro eventualmente per ritrovare comunque un livello minimo di uno cinquantacinque e sessanta quindi nonostante nonostante l'andamento insomma diciamo ultimamente non particolarmente positivo anche se proprio negli ultimi giorni il banco BPM è stata più sotto i riflettori per le ipotesi di di diffusione però ecco tolto l'ultimo periodo sappiamo che banco BPM non gode proprio di un andamento particolarmente positivo sull'orizzonte di prole di tre anni però al momento vediamo come eh sui minimi dell'ultimo anno in particolare uno sessantatré uno sessantadue e sessanta e ancora una volta uno e sessantadue questo è sul lineare quindi escludendo le le eh i minimi intratei vediamo come l'area dei uno e sessantadue si usa sul banco BPM un'area di importante supporto per quello che è successo soprattutto nel corso di quest'anno attualmente viaggiamo nell'area di uno e ottantaquattro quindi una distanza già significativa rispetto ai minimi di uno e sessantadue e ehm quindi dobbiamo eventualmente ipotizzare una discesa molto superiore a quelli che sono stati i minimi finora fatti quindi come abbiamo detto per quanto riguarda il certificato una barriera uno ventotto e cinquanta per non incassare i cento euro alla scadenza attualmente il certificato lo vediamo si acquista al di sopra del livello di emissione che è stato ottantadue e sessantaquattro non ho eh anche per effetto di una salita registrata dallo strike da parte del banco BPM quindi ottantanove e ottanta il prezzo di potenziale acquisto rimborso a cento euro quindi abbiamo un rendimento potenziale del del circa il vediamo se possiamo vedere anche qui eh rispetto a quello che è l'andamento del sul grafico abbiamo cento euro rispetto agli ottantanove più 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 precisamente facciamo anche assieme un rapido conteggio siamo a circa il dodici per cento in termini assoluti ovvero poco meno del dieci per cento su base annua per un titolo che comunque continua ad essere caratterizzato evidentemente da alta volatilità ma che ha una barriera a livelli che come detto non sono mai stati neanche lontanamente avvicinati uno e cinquantacinque il minimo più mh più basso fatto toccare al banco BPM qui abbiamo una barriera a uno ventotto e cinquanta quindi eh inferiore ancora di circa quindi uno ventotto e cinquanta rispetto a uno e cinquantacinque abbiamo circa il diciotto per cento al di sotto dei minimi fatti segnare negli ultimi negli ultimi anni quindi una barriera sufficientemente protettiva per quanto riguarda il titolo banco BPM un salito a franco nel frattempo invece ehm un'altra idea di investimento che riguarda sempre la famiglia dei recovery bonus cap e quindi intanto qui per chi fosse interessato è vediamo il codice ISIN LU uno nove quattro sei tre nove uno sette uno otto questo per quanto riguarda il titolo banco BPM rimaniamo sempre all'interno della famiglia dei recovery e soprattutto anche eh all'interno del settore bancario per vedere quest'altro certificato che invece ha una struttura similare ma una scadenza mh più breve perché andrà in scadenza praticamente fra due mesi e dieci giorni quindi comincia a essere più un'idea di breve termine qui abbiamo il titolo unicredit come sottostante il prezzo del certificato è di circa novantotto euro la barriera che dovrà essere rispettata esclusivamente alla scadenza del diciassette dicembre duemiladiciannove è a sette virgola ottantaquattro quindi abbiamo dai valori attuali di dieci e ventitré una distanza comunque eh abbastanza elevata perché siamo nell'ordine del venticinque per cento il certificato chiaramente in questi termini non rende moltissimo perché le probabilità di successo sono aumentate in maniera considerevole abbiamo venticinquattro per cento di distanza da coprire in due mesi e dieci giorni e anche uno scenario che tutto sommato su unicredit non è particolarmente entusiasmante anche da un punto di vista grafico ma sette e ottantatré non è stato mai raggiunto dal titolo unicredit quindi vediamo ecco anche nell'ultimo anno il minimo sempre in chiusura di giornata è stato fatto a nove e diciannove se andiamo un po' più indietro vediamo come il minimo si è stato fatto ancora una volta sempre in chiusura di giornata a nove e diciannove viceversa se mettiamo un intraday c'è un livello inferiore ai nove e quindi insomma barriera sette e ottantatre direi chiaramente sette ottantaquattro una barriera comunque confortante per il quanto riguarda la sua tenuta e un rendimento che a questo punto però non è ripeto chiaramente così così elevato ma può consentire un circa un due per cento a due mesi il che vuol dire che siamo sempre nell'ordine di circa il dodici per cento su base annua quindi situazione interessante per chi chiaramente in questo caso non prevede un vero e proprio collasso da parte del titolo unicredit e anzi che preveda in qualche modo anche una tenuta di livelli comunque sufficientemente bassi barriera capitale sette e ottantaquattro eh per quanto riguarda i recovery bonus cap è possibile andarli a vedere qui nella sezione dedicata ai bonus ci sono tutti questi con barriera europea eh e quotazione eh ormai scadenza a dicembre duemiladiciannove vediamo i primi hanno già una quotazione molto vicina ai cento euro quindi non offrano più non offrano più molti margini viceversa abbiamo ancora qualcosa sempre sulla scadenza di dicembre sul banco PPM con una barriera uno cinquanta quattro e venti e su Saipem a tre e cinquantatré Maurizio mi segnala un 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 codice Aisin anzi lo andiamo a vedere proprio assieme anche perché trattandosi immagino anche in questo caso di un recovery lo vediamo quindi LU diciannove dieci trentatré novanta sessantacinque è sempre un recovery bonus cap unicredit quindi intanto ringrazio Maurizio della collaborazione in questo caso lo paghiamo novanta e ottantacinque la scadenza è un anno e la barriera sei e ottantasei ma guarda diciamo che Maurizio tu lo ritieni migliore sicuramente abbassiamo la barriera e puntiamo a un rendimento di circa il dieci per cento in tredici mesi e quindi sotto questo punto di vista può effettivamente apparire migliore dall'altra parte la scadenza a soli due mesi con due per cento in termini annualizzati rende addirittura di più ed è evidente che insomma la barriera a sette e ottantaquattro su due mesi può essere considerata sufficientemente lontana così come un sei e ottantasei a tredici mesi a quattordici mesi però assolutamente valida come segnalazione naturalmente più è bassa la barriera più ci sentiamo tranquilli ma non trascuriamo mai la durata residua che chiaramente implica comunque per quanto minimo anche l'impatto del dividendo ma comunque unicredit non stacca un granché quindi effettivamente non è che va a coprire poi così tanto la distanza dalla barriera allora per quanto riguarda l'unicredit il codice ISIN è LU1910338927 questo è per quello che riguarda la scadenza dicembre 2019 mentre se può interessare più la scadenza dicembre 2020 abbiamo un LU1910339065 comunque tornando appunto un po' a tutta la panoramica dei certificati corridor in scusate recovery vediamo sulla scadenza dicembre 2019 c'è ancora un po' di rendimento ad esempio anche in un'intesa San Paolo che osserverà la barriera esclusivamente a scadenza 1 90 e 60 attualmente quotiamo su intesa nell'area dei due dieci siamo precisamente a due zero nove e settantacinque e quindi per una distanza di circa il dieci per cento da qui a fine anno prezzo di acquisto 96 e 40 rendimento 3 e 73 però attenzione perché intesa 1 e 90 l'ha quotato effettivamente qualche mese fa quindi una barriera mentre su unicredit abbiamo una barriera per ora mai vista su intesa invece c'eravamo non molto tempo fa comunque dal sito vedete potete trovare un bel po' di idee incluso anche qualcosa a livello di investimento in equilibrio quasi rispetto a quello che è il il prezzo attuale perché abbiamo ad esempio stavo guardando il titolo buyer sulla scadenza eccoci qui sulla scadenza sempre di dicembre 2019 abbiamo un 62 e 10 per il titolo buyer 63 e 21 è la o meglio scusate 62 10 è la barriera 63 e 21 è l'andamento del del titolo al momento quindi c'è una distanza da coprire di solo l'uno e 75 ma il certificato si acquista ancora a 90 quindi rende circa il 10 per cento abbondante a dicembre ancora più interessante ma per chi ritiene chiaramente plausibile un recupero da parte del popolare emilia romagna e qui anche mi vorrei far aiutare magari da un grafico per vedere un attimo come la situazione sul breve è evidente che questa questi questo triplo minimo molto discendente da parte della b per a partire dai massimi di aprile non è non è così confortante per un recupero però c'è anche da dire che insomma abbiamo un livello veramente molto vicino da recuperare per la barriera perché a tre e 51 rispetto ai tre e quarantanove a cui quota adesso in precisione tre quarantotto e trenta l'acquista 88 e 25 quindi comunque un rendimento interessante e mh vediamo vediamo lo andiamo da vedere anche sul ced lab per darci un'idea della eventualmente del premio che si paga rispetto alla componente lineare quindi facciamoci aiutare dal dal ced lab e quindi adesso andiamo a vedere un attimo quindi ripetiamo lo strike a tre e novanta il prezzo di emissione ottantanove e ventotto quindi c'è indubbiamente del premio rispetto a quella che è la componente lineare perché a tre e novanta il certificato è stato emesso a ottantanove siamo ancora a ottantanove circa ma il banco e il bpr è scesa da tre e novanta e quindi è evidente che c'è del premio aspettiamo eccoci qui eh precisamente ottantasette e settantacinque all'ultima fotografia c'è un premio di circa il dieci per cento quindi se la bpr riuscisse effettivamente a rimanere al di sopra della barriera di tre e cinquantuno scatterebbe rimborso di cento euro un rendimento del quattordici per cento a due mesi e dieci giorni se invece non dovesse riuscirci ci sarebbe un premio da pagare del dieci per cento insomma certificato adatto sicuramente per chi ha un po' di prospettive positive sul titolo della popolare Emilia Romagna e rimaniamo nell'ambito dei certificati di investimento poi ci lasciamo facciamo una parentesi sui prodotti da trading e poi torniamo a vedere un paio di idee eh particolari qui ero prima di di andare a vedere eh i prodotti da trading volevo ancora condividere con voi un certificato che potrebbe essere interessante ancora legato al settore bancario in questo caso si tratti di un cash collect legato al titolo intesa San Paolo il prezzo è appena superiore alla pari quindi circa cento due qui abbiamo una barriera a uno sessantatré e ottanta quindi una barriera per per ora non più vista negli ultimi negli ultimi tempi e mh e alla tenuta di questa barriera è condizionato il pagamento di una ricca cedola del sei e settanta con ehm senza effetto memoria però quindi una ricca cedola del sei e settanta che verrà pagata il dodici di o meglio il diciannove dicembre alla data di pagamento con osservazione dodici dicembre ancora una ehm cedola sempre del sei e settanta in programma giugno duemilaventi e infine al quattordici dicembre duemilaventi l'ultima cedola in programma del sei e settanta quindi abbiamo complessivamente venti virgola uno punti di coupon da incassare da qui a dicembre duemilaventi che si vanno a sommare ai cento euro di emissione quindi cento venti virgola uno l'acquisto oggi potrebbe avvenire intorno al nominale nel detto nell'area nell'area dei cento uno cento due quindi c'è un potenziale rendimento del diciotto per cento a patto che intesa tenga la barriera di uno sessantatre e ottanta naturalmente in quest'ottica attenzione al dividendo che essendo la scadenza dicembre duemilaventi dovremo tener conto del dividendo di circa venti centesimi che intesa staccherà a maggio duemilaventi quindi questa distanza dalla barriera che attualmente ancora di circa cinquanta centesimi quarantacinque centesimi in realtà si ridurrà a venticinque se se terremo conto del dividendo che intesa andrà a staccare come detto nel mese di maggio eh un caro saluto a Renato che si è collegato da poco quindi ehm idea su intesa San Paolo abbiamo detto un rendimento comunque interessante naturalmente non privo di rischi perché la barriera uno sessantatre ottanta se la guardiamo solo da un punto di vista grafico tutto sommato poi dovrebbe abbastanza tranquillizzare il posizionamento lì però è anche vero che insomma ripeto il dividendo va considerato questo è il grafico degli ultimi tre anni vedete uno sessantatre non ci siamo mai arrivati però insomma vediamo un po' cosa succederà nelle prossime settimane il certificato a mio avviso è da tenere comunque in watch list perché paga una bella cedola di cui come detto la prossima al dodici dicembre di osservazione diciannove come pagamento tra l'altro ancora in tempo utile per il recupero delle minusvalenze in scadenza a dicembre duemiladiciannove adesso eh ah c'era una segnalazione da parte di Sergio che voglio eventualmente condividere quindi andiamo a vedere un attimo assieme questo certificato Sergio in più di un'occasione ha già segnalato situazioni su questa coppia di titoli e quindi probabilmente vediamo un po' gli ultimi erano molto interessanti quindi volentieri vado a prendere assieme a te eh questo certificato naturalmente mi intende questo genere prezzo attuale a questo circa mille e sette certificato ammesso sul fine di agosto a scadenza duemilaventidue i sottostanti sono eni e generali è vero in genere vediamo un eni enel queste eni generali dove il le barriere sono oggettivamente poste a livelli molto molto basse perché abbiamo sette e novantuno su eni mai visto nella sua storia generali nove cinquantanove se non ricordo male ci è arrivato ma tanto tempo fa e quindi in questo caso intanto prima che vado avanti per non perdere il filo Giuliano mi puoi chiedere ridire l'aisin riferito al certificato su intesa San Paolo o questo che stiamo vedendo adesso e quindi così ti posso rispondere e allora dicevo quindi eni e generali barriere veramente molto basse il certificato paga cedole semestrali del 385 385 alla tenuta però di un livello un po' più alto perché paga il trigger 70 per cento rispetto agli strike iniziali viceversa la barriera capitale è al 60 per cento quindi attenzione perché ormai abbastanza diffusa sul mercato questa tendenza a porre una barriera un po' più alta per il pagamento dei coupon e una più bassa per la protezione del capitale a scadenza in questo caso quindi abbiamo 70 per cento per la per la barriera coupon e eh 60 per cento invece per quanto riguarda la protezione del capitale ehm 13 e 19 lo strike su eni 15 e 99 su generali entrambe positivo in questo momento mi sembra comunque interessante anche perché se guardiamo al worst of la barriera coupon nove e ventitré anche qui non l'ha mai vista eni se non ai tempi della eh privatizzazione parliamo quindi del novantacinque se non ricordo male e altrimenti insomma barriera capitale ancora più passa a sette e novantadue quindi sì una buona idea da portafoglio fermo restando che potrebbe anche rimborsare anticipatamente già dieci febbraio duemilaventi in questa situazione già rimborserebbe a mille trentotto virgola cinque perché entrambi i titoli sono al di sopra dello strike iniziale quindi potrebbe essere sia un'idea di breve ovvero su febbraio con rendimento di circa tre punti da oggi oppure un'idea da portafoglio con sempre la presenza dell'opzione autocall che potrebbe far restinguere in anticipo il certificato allora ehm e qui naturalmente come detto sulla scadenza duemilaventidue quindi tutto sommato abbastanza insomma insomma media come scadenza siamo tre anni o qualcosa di meno da oggi abbiamo una barriera molto lontana e eh quindi un prezzo attuale come ho detto intorno al nominale per quanto riguarda questo certificato il codice AISEN lo vediamo qui assieme XS due zero zero otto zero quattro zero sei sei quattro per quanto riguarda il cash collect su intesa San Paolo senza opzione autocall senza memoria che però paga dei ricchi coupon del sei e settanta eh semestrale sulla tenuta della barriera a uno e sessantatré abbiamo un XS uno quattro nove zero otto otto sette uno sette otto ehm allora vediamo un po' allora facciamo così dato che c'è comunque vedo che c'è un certo interesse una certa attenzione al mondo degli investment ma questo un po' come avviene in tutti i webinar io mi fermerei per ora su questa su questa categoria e poi magari dedichiamo invece l'ultima finestra ai prodotti da trading eh così da insomma di suddivirlo proprio in due in due in due momenti diversi allora c'è ci sono altri due certificati che abbiamo selezionato allora il primo è un classico certificato express tra l'altro tipologia di prodotto che ha qualche anno sulle spalle ma che vi ricordo continua ad essere estremamente interessante per coloro che in qualche modo prevedono una eh tenuta dei prezzi ricordiamo la differenza ne approfitto per fare un po' di chiacchiere eh che spero possano comunque interessare ricordiamo la differenza a livello operativo tra un certificato express e un certificato Phoenix o cash collect che sia diciamo che nel momento in cui l'express che è una delle prime strutture ormai quotata sul mercato da oltre dieci anni nel momento in cui l'express paga solo se si verifica l'evento di rimborso anticipato e nel caso specifico vediamo un esempio questo prodotto paga annualmente un premio del 760 evidentemente con effetto memoria perché lo paga solo in caso di rimborso anticipato quindi si va a cumulare di anno in anno e quindi dal momento che questo genere di strumento paga solo se il sottostante si trova almeno al trigger che è tipicamente a 100 per cento poi qualche volta scende a 95 o 90 ma comunque generalmente parte a 100 è chiaro che è uno strumento che va preferito se si ha una visione eh da qui alla scadenza quantomeno lateral positiva per il sottostante viceversa una aspettativa anche moderatamente ribassista andrebbe a vanificare il risultato di questo strumento di questo strumento perché ripeto non prevede il pagamento di coupon intermedi ma solamente nel caso in cui si verifica il rimborso anticipato quindi nel caso specifico questo certificato alla prossima data di osservazione del 29 maggio 2020 eh prevede il rimborso anticipato di un importo del pari al nominale maggiorato di 15,2 punti percentuali quindi un importo totale di 115,20 e la condizione richiesta al sottostante è che si trovi almeno al livello di partenza quindi pari o superiore il sottostante nello specifico è l'indice Fuzzi Mib lo strike iniziale è stato fissato in emissione a 21.350 punti quindi questo vuol dire che se a maggio 2019 l'indice zero verrà esattamente a 21.350 o superiore il certificato rimborserà 115,20 attualmente l'indice è al di sopra del livello iniziale quindi siamo circa 200 punti al di sopra del livello iniziale il certificato si acquista esattamente a 100 euro o poco più qualche decimale in più quindi ci sarebbe da realizzare un 15 per cento da qui a maggio a condizione che l'indice rimanga esattamente sui valori odierni anche qui attenzione però come sempre perché perché l'indice Fuzzi Mib vi ricordo che nel mese di maggio tipicamente il terzo venerdì del mese andrà a staccare una parte cospicua dei dividendi previsti in particolare se andiamo a vedere entro il c il 29 maggio 2020 sono stimati in questo momento 755 punti di dividendo e in particolare verranno staccati come detto nel mese di maggio e quindi in particolare il terzo venerdì che possiamo vedere assieme sarà nel mese di maggio e lunedì sarà il 18 dovrebbe essere il 18 maggio ma lo vediamo assieme magari per non sbagliare prendiamo un titolo tra i più rappresentativi ma in ogni caso prima del 29 questo come come condizione quindi andiamo a vedere assieme in questo caso lo stacco sarà esattamente il 18 maggio quindi confermato quello che stavo dicendo quindi 755 punti indice che l'indice perderà pertanto dai 21.544 punti a cui quota in questo momento anzi 21.590 proprio in questo preciso momento bisogna togliere 750 punti si scende intorno ai 20.800 e quindi bisognerebbe poi a quel punto recuperare l'area dei 21.350 per questo il certificato offre questo potenziale rendimento così importante circa 15 punti sulla capacità dell'indice di recuperare i dividendi e che andrà a staccare e anche insomma rimanere più o almeno sui valori post stacco quindi sperando che recuperi tutto quello che andrà a staccare al netto di circa 200 punti però interessante a mio avviso per chi vuole puntare sul fatto che l'indice possa rimanere alto da qui a maggio 2020 o comunque non perdere troppo valore xs 177 8392 214 andrei a concludere con una panoramica sui certificati di investimento fermo restando che se ci sono segnalazioni da parte vostra sono assolutamente benvenute e riguarda un certificato di cui abbiamo anche parlato sull'ultimo certificate journal ma abbiamo lo voglio andare un po' a puntualizzare il funzionamento si tratta di un sempre un certificato express a ecco scusate stavo prima avevo iniziato un ragionamento poi parlando del prodotto l'ho lasciato a metà dicevo l'express quindi paga solo nel caso in cui il sottostante rilevi almeno allo strike se il sottostante si prevede comunque possa scendere ad esempio pensiamo un titolo sui massimi come può essere Enel piuttosto che come è stato Ferrari fino a poco tempo fa cioè dove c'è il rischio di una correzione per quanto minima ma una correzione tecnica andare su un express implica praticamente avere poche chance di ottenere rendimento perché comunque abbiamo detto l'express paga sempre e solamente se il sottostante è sopra lo strike iniziale a quel punto invece andare su un Phoenix che magari paga potenzialmente un po' meno ma lo paga anche a fronte di una barriera posizionata a meno 30 o meno 40 riesce a salvaguardare capitale e soprattutto anche il potenziale rendimento quindi la scelta tra le due tipologie tra gli express e i Phoenix dovrebbe avvenire anche in funzione delle aspettative quindi non tutti i prodotti sono uguali magari si punta un rendimento un po' più basso ma con maggiori probabilità ecco tra i certificati che assumono una caratteristica particolare quindi una variante degli express c'è proprio questa struttura che prende il nome di express glider dove glider sta a rappresentare una sorta di planata quindi un certificato che ha un funzionamento particolare che ora andiamo a vedere nello specifico in particolare il 3 marzo 2020 quindi da oggi siamo nell'ordine dei cinque mesi quindi 3 marzo 2020 si verificherà il rimborso anticipato con un premio del 16 85 per cento quindi questo è un certificato che paga ben 16 punti e 85 l'anno come vedete con effetto memoria al punto che dopo nel 2021 il rimborso potrebbe avvenire con un premio del 50 per cento piuttosto che alla scadenza addirittura del 101 per cento dicevo alla prima data 3 marzo 2020 si potrà verificare il rimborso anticipato con questo premio a due condizioni la prima è quella classica ovvero che il i sottostanti in questo caso sono due e si tratta dei titoli fiat e intesa san paolo si trovino almeno al cento per cento del livello iniziale quindi primo scenario 3 marzo 2020 tutti e due i titoli fiat e intesa si trovano al di sopra dei livelli strike quindi fiat sopra 11 94 e 6 intesa sopra 2,005 si verifica in quel momento il rimborso anticipato del del certificato quindi 100 più 16 e 85 un totale di 116 85 se uno dei due certitoli invece è inferiore è inferiore al livello cento per cento quindi a livello di iniziale c'è una seconda condizione che per però purtroppo vale solo per la prima data ovvero se entrambe i titoli durante tutto il periodo di osservazione quindi barriera americana hanno quotato sempre al di sopra dell'ottanta per cento del livello iniziale che vuol dire non hanno mai perso più del 20 per cento in questo caso 3 marzo 2020 rimborso anticipato di 116,85 ovvero in questo caso dato che quota su base mille 1168,5 quindi ripetiamo per la prima data due condizioni tutti e due i titoli al di sopra del livello iniziale rimborso anticipato oppure tutti e due non hanno mai quotato al di sopra dell'ottanta per cento del livello iniziale quindi non hanno perso più del 20 per cento su intesa quindi facile il 20 per cento non hanno mai quotato al di sotto di 1,60 e su fiat praticamente un livello di 9,55 quindi si Attilio ti ho risposto praticamente appunto spiegando le altre adesso vado a vedere vado a vedere le domande nel frattempo sono arrivate quindi ricordo prima data due condizioni al momento il certificato lo si paga 984,80 e come detto a marzo potrebbe rimborsare 1168,5 se si verificherà una delle due condizioni non devono essere contemporanea e basta una delle due quindi certificato a mio avviso molto interessante purtroppo però vale solo per la prima data il glitter poi si andrà avanti invece di semestre in semestre con un premio che crescerà del 16,85 quindi praticamente siamo al 33,70 su base annuale a settembre 2020 premio di 33,70 a marzo 2021 come abbiamo detto 50 e 55 fino alla scadenza dove ancora una volta il premio come ho detto potrà essere del 101,1 a patto che entrambi però siano al di sopra del cento per cento del livello iniziale altrimenti si guarderà alla barriera capitale posta al 70 per cento e quindi i livelli come detto 8,36 su fiat 1,40 sul titolo intesa san paolo allora altro considerazione che c'è da fare su questo genere di strumento che vale un po' per tutti i certificati express di cui abbiamo parlato e continuiamo a parlare nei nostri appuntamenti allora intanto prima di continuare rispondo glider ringrazio paolo quindi un express glider all'inglese giustamente magari mi fa sotto mi sottolinea paolo tutti e due in barriera continua americana nel senso sì non devono mai aver quotato al di sotto della barriera dell'ottanta per cento quindi se uno dei due scende al di sotto dell'ottanta per cento in qualsiasi momento purtroppo si perde il diritto al rimborso anticipato alla prima data utile quindi tutti e due in barriera continua americana per il primo periodo di osservazione dopodiché non non ne ha più nessun effetto l'effetto glider ecco allora ho perso un po' di domande prima scusate poi dopo adesso li andiamo a riprendere quindi questo per quanto riguarda il certificato dicevo una cosa volevo condividere con voi attualmente abbiamo intesa san paolo rialzo del 4 e 74 e fiat in ribasso del 5 e 66 e il certificato come detto quota 984 con un potenziale rimborso di 1168 alla prima data ipotizziamo non si verifichi il rimborso anticipato a marzo 2020 ci troviamo a ottobre 2021 ad esempio di questi tempi e abbiamo ancora il titolo intesa in rialzo del 4 e 70 e il titolo fiat in ribasso del 5 e 60 a quel punto a ottobre 2020 e 21 il certificato anche a parità di sottostanti non potrà quotare i 984 euro che quota oggi perché avrà un effetto calamita dato dal potenziale rimborso anticipato di a quel punto 1842 euro quindi quello che va assolutamente compreso del funzionamento dei certificati express con i premi così importanti su base su base annuale e che il solo trascorrere del tempo fa apprezzare questi questi certificati chiaramente dove i sottostanti rimangano nei pressi dello strike o comunque del livello di rimborso anticipato evidentemente se invece vengono giù pesantemente questo effetto purtroppo si perde un po' però a parità di sottostante il solo passare del tempo farà crescere il certificato pertanto l'acquisto oggi a 984 implica un potenziale rendimento del 20 del 17 18 per cento sulla prima data di marzo 2020 e delle chance comunque abbastanza concrete di rivedere i prezzi di acquisto nei mesi successivi anche qualora i sottostanti non riescano a salire in maniera in maniera importante quindi certificato che comunque come detto proteggerà il capitale a scadenza settembre 2022 anche per valori superiori alle barriere allora vediamo un po' prima di dedicare qualche minuto a come abbiamo detto i prodotti da trading allora Riccardo non hai visto una cosa importante come si fa a tenere sul sito già nella lista di bonus cap ok allora torniamo quindi sul sito prodotti appunto sede general punto it andiamo nella sezione prodotti qui in home page bonus e da qui si aprono tutti i 106 certificati che hanno una struttura bonus poi l'osservazione della barriera e ti dirà se si tratta di recovery top bonus o di recovery bonus cap dove i top bonus hanno la barriera solo a scadenza i bonus cap ce l'hanno invece di tipo americana quindi continua quindi puoi selezionare vedete ecco adesso stiamo andando giù nella parte inferiore ci sono quelli con barriera americana quindi ci si arriva di da qui per giuliano credo di aver già dato il codice ISIN del dello 065 quindi dovrei averti risposto per quanto riguarda il certificato su intesa san paolo abbiamo detto non ha memoria sulle cedole quindi 6 e 70 semestrale ma non c'è memoria e fernando ne ha segnalato uno che adesso andiamo a vedere assieme poi c'era stato un problema sul sull'audio ma credo che ormai sia tornato l'immagine per marco spero che si veda e quindi credo di aver dato più o meno le risposte a tutti vediamo rapidamente questo di fernando mi piace comunque questa questa collaborazione e questa partecipazione che mi permette insomma anche di dare degli spunti che magari sono stati individuati da voi e quindi possono interessare chiaramente anche altri altri partecipanti altri investitori si tratta di un crash in questo caso però eh fernando l'emittente non è so se del general quindi ti chiederei scusami non ho verificato prima magari lo vediamo in un'altra situazione in queste occasioni vediamo solamente quelli di Sogen come giusto che sia visto che siamo ospitati o meglio insomma è dedicato proprio ai prodotti Sogen questo spazio naturalmente lo rivedremo in un'altra situazione allora invece vorrei dedicare come detto qualche qualche minuto abbondante al ai prodotti da trading in particolare ricordo che Sogeneral ha quotato nel corso dell'ultimo anno ormai qualcosina in più questi certificati chiamati corridor dopodiché c'è stata l'evoluzione sui certificati stay up e stay down allora qual è il funzionamento è veramente molto semplice mh e forse nella sua semplicità spaventa tutti coloro che non ci hanno mai messo troppo la testa eh mi spiego allora qui vediamo abbiamo eh sempre sul sito così come abbiamo cercato prima in bonus cap abbiamo fatto la stessa cosa andando a selezionare prodotti e poi corridor ce ne sono in questo momento 109 in quotazione si parte da un ordinamento legato alla scadenza in questo caso siamo sulla scadenza più piccina quindi ad esempio questo certificato sul Fuzi Mib scadrà il 15 novembre 2019 ma prendiamo ad esempio questo su su Fiat Fiat Chrysler allora lo vediamo assieme direttamente da questa tabella il certificato scadrà il 20 dicembre 2019 rimborserà un importo fisso di 10 euro quindi certificato rimborserà 10 euro a condizione che da qui al 20 dicembre 2019 Fiat non quoti mai un livello pari alla barriera inferiore posizionata a 10 euro o superiore posizionata a 15 euro attualmente abbiamo un valore di Fiat pari a 11 e 24 quindi al di sotto c'è da proteggere circa un 11 per cento di distanza mentre al di sopra un abbondante 33 per cento quindi si è creato un corridoio compreso tra 10 e 15 barriere inferiore e barriera superiore fin tanto che Fiat rimarrà all'interno senza mai toccare nessuna delle due barriere il certificato cuoterà e rimborserà alla scadenza 10 euro fissi se sarà invece toccata una delle due barriere sufficiente una in qualsiasi momento si perderà il diritto a ricevere la protezione del capitale e qualsiasi tipo di rimborso e il certificato immediatamente verrà revocato e azzerato quindi ci sarà la perdita totale dell'investimento ed è questa chiaramente la parte che spaventa perché perdere tutto è evidente che rappresenta un evento nefasto a dir poco il certificato chiaramente proprio per questo meccanismo offre delle importanti potenzialità di rendimento quindi attenzione stiamo parlando di prodotti di trading di trading giornaliero o eventualmente di pochi giorni o settimane perché perché ha questo rischio dato dalla presenza di due barriere che non devono essere mai toccate attualmente però si acquista potenzialmente a 6,10 euro quindi il rendimento che offre questo strumento è del 64 per cento e ripeto a patto che Fiat da oggi non perda mai più dell'11 e 40 per cento o non guadagni mai più del 32 e 90 per cento ora questo strumento quindi come si può comprendere bene offre delle importantissime opportunità di rendimento che non è detto che debbano essere tutte legate alla scadenza del 20 dicembre e quindi interamente il 64 per cento io posso acquistare oggi a 6 e 10 passano 15 giorni Fiat rimane sui valori attuali il certificato da 6 e 10 è passato a 7 euro e a quel punto uno lo vende e guadagna quel 10 15 per cento cioè la quotazione è in continua e quindi può essere tranquillamente chiuso anche prima della scadenza è evidente che essendo strumenti molto particolari bisogna porre la massima attenzione alla valore del sottostante alla componente della volatilità al fattore tempo e anche all'impatto dei dividendi quindi non sono strumenti semplici da manovrare da gestire il funzionamento è semplice il canto rimborsano 10 o rimborsano 0 quindi in questo senso non è che siano particolarmente complessi ma ciò che è succeduto nel durante merita sicuramente un bel po' di attenzione e allora intanto Marco porta una testimonianza dice di averli comprati e nel bene o nel male l'ha tenuti fino a scadenza devo dire che io invece personalmente ho sempre preferito insomma liquidarli un po' prima perché comunque mi piace poi utilizzarli anche in ottica di di strategie ad esempio ecco allora prendo spunto anche in questo caso ringrazio Massimo di una di di un feedback quindi ci sono due strumenti su Leonardo su scadenza dicembre 2019 il primo ha una barriera 8 e 50 al ribasso 13 al rialzo e si paga oggi 8 e 0 6 l'altro 8 inferiore 13 e 50 superiore e si paga eh 8 e 84 quindi i rendimenti potenziali il primo del 24 e il secondo del 13 per cento molto interessante sicuramente ma insomma adesso vi dico un po' come la ragiono io poi naturalmente ognuno valuta sulla base della propria propensione al rischio delle proprie esperienze innanzitutto bisogna individuare un po' il titolo e avere un po' di familiarità e di sensibilità con il grafico cioè capire anche un po' i livelli a cui quota il sottostante dopo di che si devono verificare appunto i prezzi il rischio e quali sono le opportunità di rendimento ora vi racconto un po' come a mio avviso andrebbero anche un po' utilizzati soprattutto per chi ha paura dell'azzeramento che è quello che ehm che effettivamente spaventa di più e anzi devo dire intanto prendo per ottimo anche lo spunto di Filippo che dice che vanno comprati dopo un picco di volatilità appuntando proprio sull'effetto del del rientro diciamo verso la media no quindi in qualche modo uno punta sul fatto che dopo un picco di volatilità il mercato possa in qualche modo stabilizzarsi e anche senza grandi movimenti del sottostante solo il raffreddamento della volatilità effettivamente porta ad un apprezzamento dello strumento però vi volevo far vedere c'è un altro modo di utilizzarli al di là di quello che stiamo vedendo adesso dove ci sono delle distanze comunque importanti da coprire sull'orizzonte dei due mesi e mezzo perché questo scadrà il venti dicembre scadranno oggi sette di ottobre quindi è possibile insomma puntare anche su rendimenti importanti con delle distanze del ventidue ventidue venticinque trenta per cento però io ecco infatti Marco proprio questo io invece faccio quest'altro genere di lavoro intanto su questa sezione dedicata da Sogen vado a ordinarli per lettera cioè mi cerco quelli che hanno una quotazione un po più bassa e dove evidentemente anche la probabilità di successo a quel punto diventa molto più ridotta ma non perché mi piaccia utilizzarli in ottica di scommessa come appunto ho avuto occasione di raccontare già altre volte ma perché qui riesco ad avere un po più di visibilità sul potenziale rendimento ed eventualmente costruire anche una sorta di strategia di copertura allora intanto voglio cercare di inquadrare un po meglio quel rischio di azzeramento che spaventa tutti coloro che in questo momento ancora non li hanno mai toccati questi strumenti perché perché c'è comunque da capire che cosa vuol dire si azzera il certificato vi voglio portare un esempio allora facciamo facciamo così partiamo dal da un grafico e quindi in particolare ad esempio dal da un titolo che ho selezionato o selezionato poco fa il titolo in particolare stm quindi andiamo a vedere il suo grafico andiamo a togliere queste questa parte qui ecco allora dunque il titolo stm il suo grafico vediamo che è praticamente è comunque un grafico rialzista da inizio anno che quotava circa 10 euro e 60 e attualmente ha raggiunto i 17 84 è sicuramente in un trend rialzista però guardandola adesso un po' per quello che è stato il po' di raffreddamento sul nasdaq il fatto che comunque non sia riuscita a rompere l'area dei 18 e 50 attualmente vediamo che stm quota 17 85 potrebbe probabilmente esserci spazio per una operazione long per chi vuole dare fiducia ma probabilmente anche provare a portare uno short in in portafoglio perché comunque siamo a 17 85 se dovesse andar giù avrebbe una prima resistenza un primo supporto dato dal minimo in area 17 che ha tenuto due volte nel corso degli ultimi giorni e quindi un primo obiettivo a 17 e poi se dovesse rompere a quel punto la base del canale rialzista che passerebbe in area 15 e 50 poi insomma nel corso del tempo salirebbe un po' però diciamo un po' più di spazio al ribasso questa operazione fatta short con il titolo azionario avrebbe uno stop naturale al di sopra di 18 e 50 perché è praticamente il massimo che è stato fatto sfiorato il a settembre dove il titolo stm ha toccato 18 e 48 e poi è venuta giù quindi immaginiamo chi in questo momento ad esempio voglia andare short sul titolo stm quindi puntare sul fatto che possa scendere mettendosi uno stop loss implicito a 18 e 50 allora questo è il ragionamento che potrebbe essere fatto da chiunque operi direttamente sui titoli azionari allora se si decide di fare un'operazione del genere si può ipotizzare che chi compra titoli faccia un'operazione del genere con mille azioni a settembre short a 17 e 80 ci si pone uno stop a 18 e 50 quindi si mette in conto che su 17 mila e 800 euro di controvalore investito anche se poi sappiamo che quando si va short la piattaforma ci trattiene solo un margine però diciamo che su 17 mila e 800 euro si mette in conto uno stop di 700 euro perché da 17 8 a 18 5 sarebbe quindi uno stop di 700 quello sarebbe è quello che saremmo disposti a perdere su 17 mila e 800 euro investiti cioè 700 euro dati da un livello di resistenza oltre il quale il titolo potrebbe correre ulteriormente quindi ci applichiamo lì il nostro stop loss adesso io decido di investire solo quello che sarei disposto a perdere quindi rispetto all'investimento su azioni dove io investo anche 10 15 20 mila euro 50 mila rispetto all'investimento sui bonus cap dove posso investirne 10 20 50 mila sui corridor non è necessario che io investa 50 mila euro vado a stimare quale può essere la perdita che voglio sopportare nel caso specifico 700 euro e questi 700 euro diventano il mio investimento sul corridor nel caso specifico il prezzo attuale 2,1 700 e quanto io voglio investire quindi comprerò 333 certificati corridor adesso a dicembre potranno da qui a dicembre potranno verificarsi due cose il titolo stm andrà sopra 18 e 50 quindi toccherai 18 e 50 perderò i 700 euro interamente ma erano quelli che mi ero in conto di messo in conto di perdere con lo stop loss viceversa stm non andrà a toccare 18 e 50 il solo passare del tempo o eventualmente la discesa lo farà apprezzare quindi i 700 investiti potranno diventare facilmente 3000 perché anzi precisamente 3330 perché io ne compro 333 vanno a 10 euro l'uno di rimborso quindi avrò un rimborso di 3330 quindi una plus valenza un guadagno di 2630 euro quindi io metto in conto quello che sarei disposto a perdere ovvero 700 posso guadagnarne 2630 in questo caso come vedete io l'azzeramento della posizione non mi diventa più un evento così drammatico perché sarebbe quello che avrei perso con un esempio di stop l'ho applicato da me sul trading ora il vantaggio di fare un'operazione su questo strumento rispetto a farla direttamente con il titolo è che io ho la replica di mille azioni shortate e la stessa cosa è se vado lungo con 700 euro di capitale investito utilizzo una leva finanziaria talmente elevata che però non mi permette mai di perdere più di quello che sto investendo perché il problema della leva finanziaria esplosiva è che a volte tu investi 700 e poi magari con le piattaforme che ti permettono di fare questa cosa smargini e rischi di dover reintegrare i margini quindi perdi più dei 700 qui più di quello non puoi perdere quindi ad esempio io ho 17 mila euro che oggi voglio utilizzare per fare una sola operazione su un titolo azionario anziché investire su una sola posso utilizzarne solo 700 e quel punto con 3500 posso andarmi a scegliere 5 situazioni diverse magari 3 o 4 le stoppo prima dello stop loss che partirebbe automaticamente e una riesco a portarla a portarla in positivo insomma l'azzeramento del certificato non deve essere visto necessariamente come un evento così drammatico se si utilizza con le giuste quantità che si andrebbero a calcolare sulla base della perdita massima che vogliamo sostenere quindi è così a mio avviso che si può ragionare poi è normale ognuno li può utilizzare come per me io crede e insomma mi state dando testimonianza di averlo già fatto quindi sicuramente non avete bisogno di altri spunti operativi però soprattutto per chi in questo momento un po più diffidente per chi ha paura ecco utilizzateli con qualche centinaia di euro che sarebbe quella che è la perdita massima che siete disposti a sopportare in un'operazione normale va poi detto che eventualmente questo tipo di operazione potrebbe essere portata avanti anche in un altro modo cioè se io compro i 333 corridor a 2,1 posso contestualmente andare lungo di azioni a 7 m e se ad esempio andassi lungo esattamente di 1000 azioni a 7 m andrei a creare una copertura perfetta perché a quel punto io se 7 m scendesse di poco o rimanesse ferma mi ritroverei con la posizione lunga sul titolo che non ha prodotto né guadagni né perdite e il certificato corridor che da 2 1 è andato a 10 quello sarebbe lo scenario perfetto una discesa moderata non mi creerebbe grandi perdite sulla posizione long un rialzo di stm tale da arrivare a 18 e 50 mi garantirebbe il guadagno uguale alla perdita sostenuta sul corridor quindi potrei anche evitare di perderli questi 700 euro coprendomi e il tutto è possibile farlo anche eventualmente utilizzando questo tool vi ricordo naturalmente per chi magari sta partecipando per la prima volta oggi a questi webinar che questo è un tool realizzato da noi chat lab ma che è possibile richiedere quindi potete mandare una mail a info chiocciola certificati e derivati punto it e ve lo invieremo ad un tool di calcolo delle coperture sia per i corridor sia per gli stay up e stay down ora purtroppo sono andate abbastanza lungo quindi non sono più diciamo con i tempi utili per poter parlare diffusamente anche di stay up stay down però considerate che lo vediamo così molto molto rapidamente hanno esattamente lo stesso meccanismo dei corridor in circolazione ce ne sono 86 quello che li distingue che hanno una sola barriera posizionata o al ribasso o al rialzo e sicuramente piacciono di più perché eliminano quel rischio di eh rapida inversione che potrebbe fare un titolo magari sta scendendo verso la barriera down ti copri dal rischio di ribasso improvvisamente inverte e ti ritrovi a quel punto addirittura fin troppo coperto e rischi di perdere due volte quindi attenzione naturalmente eh all'utilizzo dei corridor con copertura quel rischio di inversione rapida con gli stay up stay down questo invece non non succederebbe e anche qui ci sono comunque situazioni interessanti ad esempio stavo guardando su Intesa San Paolo tra l'altro questo certificato si è salvato per un per un nulla perché ha la barriera superiore a due e venti scadenza venti dicembre duemiladiciannove intesa San Paolo eh nelle scorse sedute sui massimi ha fatto due diciannove e novantacinque quindi non ha toccato la barriera per cinque millesimi ehm anzi cinque decimillesimi e quindi eh il certificato è ancora vivo e oggi lo si paga tre e ottanta quattro quindi un potenziale rendimento del cento sessanta per cento se Intesa non andrà mai a toccare i due e venti potrebbe essere un'idea anche di copertura per chi ha magari posizioni posizioni lunghe perché comunque se io ho già molte Intesa in portafoglio certificati lunghi su Intesa dove una salita di Intesa mi porta ad importanti vantaggi a livello di di risultati potrei eventualmente coprirmi con questo stay down perché un'eventuale salita a due e venti me lo azzererebbe ma farebbe chiaramente camminare tutto ciò che ho già in piedi viceversa una tenuta di questi livelli o una discesa mi farebbe guadagnare il centosessanta per cento e quindi far fruttare questa forma di copertura quindi stay up stay down più facili da gestire in in questo caso naturalmente questa maggiore tranquillità si paga perché due strumenti identici anzi lo possiamo anche vedere proprio assieme e poi andiamo a terminare andiamo a vedere ad esempio un corridor scadenza 20 dicembre 2019 su Intesa San Paolo eccolo qui due venti la barriera superiore uno e cinquanta inferiore scadenza 20 dicembre lo paghiamo tre e cinquanta stesso certificato ma solo con la barriera superiore a due venti senza quella inferiore a uno e cinquanta lo si paga tre ottantadue quindi lo si paga circa un dieci per cento in più però ovviamente ciascuno valuta perché ad esempio devo dire francamente che se quella superiore a due venti è chiaramente quella più a rischio perché è distante solo quattro punti e mezzo però da qui a dicembre in uno scenario di importante discesa del settore bancario anche la barriera uno e cinquanta a quel punto potrebbe risultare al rischio quindi se almeno uno vuole prendersi il rischio di una sola delle due direzioni guadagna qualcosina in meno però almeno una sola barriera ricordo quindi la possibilità di poter eventualmente utilizzarli anche in un'ottica di copertura lì cominciamo a pensare non come strumenti su cui investire necessariamente decine di migliaia di euro ma anche quello che si sarebbe disposti a perdere come stop loss di una posizione sul sottostante e la possibilità quindi di iniziare a diversificare anche in ottica di trading appunto tra corridor e stay up stay down e va bene allora solo a ripasso 1,5 nel senso Pietro dice se ci fosse ad esempio solamente uno stay stay up su intesa ma possiamo andare a vedere scriviamo qui intesa san paolo e vediamo un po' cosa ce ne sono dieci barriera uno e cinquanta su intesa san paolo scadenza venti dicembre duemila diciannove però certo si paga nove ottantatre questo a testimonianza dell'elevata probabilità di successo della tenuta di questo uno e cinquanta quindi il rendimento potenziale è molto molto basso forse in questo momento insomma fin troppo alto il prezzo del certificato per poterlo comprare e avere diciamo così un'operazione con un buon rapporto rischio rendimento eh viceversa ecco parriera un e novanta una distanza del nove ottantaquattro solamente stay up si paga sette zero cinque rendimento del quarantuno per cento comunque ecco è possibile come vedete dal sito fare anche questo tipo di ricerca va bene allora siamo sono andato un po' lungo ma ci siamo raccontati un bel po' di cose grazie della numerosissima partecipazione anche attiva eh vi ricordo il prossimo il prossimo appuntamento nel mese di novembre e come sempre ringrazio ripeto eh tutti coloro che sono stati presenti vediamo un po' le ultimissime battute ehm se si compra sia stay up che stay down sullo stesso sottostante può funzionare Piero boh sai che non non lo so nel senso che allora a quel punto compra un corridor perché tanto oddio dovresti dovremmo verificare perché se prendi il corridor sono entrambe attive e hai un solo prodotto se prendi li prendi tutti e due e ovviamente devi investire su due prodotti diversi scende e rompe una delle due ti rimane l'altra in piedi e si potrebbe provare a vedere un po' quanto quanto rendimento rimane prendendone due che a quel punto sei tu a scegliere quali combinare quindi potrebbe potrebbe eventualmente anche avere senso sì perché naturalmente da uno perdi e l'altro guadagni bisogna vedere perché se li compri a cinque euro ovviamente perdi cinque guadagni dieci alla fine hai guadagnato cinque su quello che avevi pagato cinque ma se li paghi otto guadagni due ma perdi otto e non sta in piedi quindi l'operazione non lo so eh da ragionarci comunque grazie grazie dello spunto ci proviamo a ragionare di nuovo un saluto a tutti buona serata aperto Grazie a tutti